L'ondata di affetto che si è riversata nei confronti di Lelio Luttazzi continua. Si celebra, spalmato in tre anni, dal 2023 al 2025, il centenario della nascita del musicista triestino. E la figura di uno dei più talentuosi ed intelligenti esponenti della scena italiana è stata ricordata già qualche giorno fa al Teatro Verdi nel corso di un concerto che ha visto la presenza di Danilo Rea. Quest'oggi sono stati presentati tre appuntamenti sostenuti dalla regione, in programma il 25 maggio a Pordenone, il 27 a Gorizia e il 28 a Udine e che vedranno impegnati la Friuli Venezia Giulia Orchestra guidata da Walter Sivilotti in un omaggio sinfonico ai maggiori successi di Luttazzi. A Trieste, come ormai tradizione, non mancherà l'appuntamento durante Trieste Estate. Ogni anno all'interno del Trieste Love Jazz Festival ospitiamo una serata dedicata al maestro Luttazzi. Quest'anno sarà il 18 luglio, col trio di Massimo Moriconi, storico contrabassista e collaboratore del maestro Luttazzi. Per noi ormai è una consuetudine, un piacere ricordarlo e risentire ovviamente anche quelli che sono i pezzi forti del repertorio del maestro che normalmente in questa occasione vengono riproposti dai singoli progetti musicali che ospitiamo. L'omaggio a Luttazzi prosegue anche a livello nazionale. È già sold out un avvenimento in programma a Roma al Parco della Musica e non è tutto. Abbiamo il progetto cinema, la festa del cinema di Roma, poi abbiamo concerti dei ragazzi che hanno vinto il premio, Lelio Luttazzi in questi anni, con la Sapienza con la quale collaboriamo, con lo IUC, l'istituzione universitaria dei concerti. E poi abbiamo il terzo concerto a Sanremo al Casinò che quest'anno lo ripeteremo. E quindi insomma andiamo avanti, si lavora e siamo molto contenti.